buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi parleremo di iscrizioni online nel 2023 2024 c'è tempo fino al 30 di gennaio sono le iscrizioni degli studenti che si appresteranno a scegliere la scuola secondaria di primo grado oppure la scuola secondaria di secondo grado oppure la scuola primaria domanda numero uno fino a quando sarà possibile compilare la domanda online per l'iscrizione 2023 2024 e da quale piattaforma digitale si compila la domanda di iscrizione e come si accede allora la data di scadenza per la compilazione della domanda di iscrizione delle prime classi dell'anno scolastico 2023 2024 è fissata alle ore 20 del 30 gennaio 2023 cliccando sul seguente link cioè www.istruzione.it slash iscrizioni online slash si accede al servizio per la compilazione della domanda attraverso lo speed personale o la carta di identità elettronica o lei das c'è la autenticazione di identificazione elettronica domanda numero 2 la compilazione della domanda di iscrizione viene fatta da uno dei due genitori con la dichiarazione di condivisione da parte del genitore che compila la domanda se i genitori sono separati o divorziati come devono compilare la domanda ricordiamo che la richiesta di iscrizione deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori indipendentemente dalla situazione di separazione divorzio e a prescindere dalla tipologia dell'affidamento il modulo online recepisce le disposizioni sulla responsabilità genitoriale e richiede appunto che il genitore che compila la domanda dichiari di aver effettuato la scelta della scuola con il consenso dell'altro genitore domanda numero 3 quante scuole è possibile scegliere in subordine alla prima scelta la richiesta di iscrizione telematica si può presentare ad una sola scuola che chiaramente la scuola della prima scelta dunque sul modulo bisogna indicare solo la propria prima scelta c'è però spazio per scrivere non è obbligatorio farlo ma c'è però spazio per scrivere il nome al massimo di due scuole in subordine ovvero una seconda e una terza scelta se la scuola indicata come prima scelta non dovesse accogliere l'alunno per motivi di sovranumerarietà e dunque perché non c'è posto perché non c'è la disponibilità dei posti si passerà alle scuole indicate come seconda e terza scelta questo passaggio sarà fatto in automatico dal sistema delle iscrizioni online speriamo che le risposte date sull'argomento che un argomento diciamo importante per il periodo che si sta vivendo delle iscrizioni telematiche online sul piattaforma digitale dell'anno scolastico 2023 2024 siano utili a tutti i nostri lettori questa volta ci siamo rivolti a un panorama più ampio non solo ai docenti ma a tutte le famiglie ea tutti gli studenti arrivederci e alla prossima puntata grazie a tutti